Da una decina di anni i videogiochi Pokémon vengono presi di mira dall'odio dei cosiddetti fan perché la grafica e la storia non sono mai all'altezza delle loro aspettative specialmente da quando siamo passati a Nintendo Switch Non hanno tutti i torti, ma se c'è una cosa che i giochi Pokémon non hanno mai cannato sono le musiche Da quando il brand è nato le musiche Pokémon sono sempre state al top, sempre al massimo della forma e in questo video vi andrò ad elencare le mie 8 host preferite del mondo Pokémon Quindi le mie preferite, non le preferite del pubblico in generale Sennò facciamo come è successo con Tearmaker che la gente non ha capito il senso del video Erano i miei giochi preferiti, non quelli del pubblico in generale Ho scelto una host per ogni generazione Però non le ho scelte partendo dall'ottava e andando al ritrosso fino alla prima Né partendo dalla prima e arrivando fino all'ottava Ma ho scelto le host in base al mio livello di gradimento Quindi a primo posto potreste trovare, che ne so, la terza gen, la quarta, la quinta, la sesta E alcune ho fatto davvero fatica a scegliere quali dalle varie generazioni Ma vediamo Iniziamo con il tema di Lavandonia preso da Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee So che molti avranno avuto i flashback del Vietnam Alcuni avranno avuto quelle paralisi, quelle epilessie che vengono raccontate nelle creepypasta Che a proposito delle creepypasta sono storie di paura non vere Ma devo ammettere che io ho sempre trovato il tema di Lavandonia stupendo Nel senso però non stupendo, nel senso di pomposo, grandioso, nel senso di malinconico La prima parte, specialmente la prima parte, è molto malinconica E quando arriva verso la parte centrale il tema diventa un pochino più allegro E riesci davvero ad apprezzarlo Anche se in Argold, SoulSilver, Ore e Argento il tema è stato rivisto Ed è stato cambiato con la melodia completa del Pokéflauto Infatti quando entrate a Lavandonia nei giochi di seconda generazione Noterete che la melodia inizia proprio come quella del Pokéflauto Ed è una melodia completa questa volta Anche quella è molto bella, infatti se la giocava con Lavandonia Però dato che era seconda gen quella del Pokéflauto Completa E in seconda gen Ce n'è una che mi piace di più Sì, è quella della sfida contro il nostro rivale Comunemente chiamato Argento dai più Ci sarebbe anche la sfida contro Lance il campione E contro Red o Rosso se preferite Ma entrambe sfruttano la stessa melodia E quindi ho preferito sceglierne una Che non sfruttasse nessun altro personaggio all'interno del gioco E in effetti questo rivale è ancora più cattivo rispetto a Gary Quindi tanta roba Abbiamo poi Pokémon Sole e Pokémon Luna La lotta contro i Super 4 Questa ragazzi mi ha colpito davvero tanto Perché io mi aspettavo la classica musica da Super 4 Super pomposa Super... adesso ti apro in due Invece no, questa ti dà la carica giusta per affrontare l'avversario E non ti mette in soggezione Sei tu che sei pronto a mettere in soggezione l'avversario Ed è proprio il bello di questa host Da a te la carica Al quinto posto invece troviamo La lotta di Zazian e Zamazenta Risvegliati quindi con l'armatura da eroe Con la spada e lo scudo Contro Eternamax Grazie a tutti Quando appunto gli eroi si risvegliano per combattere Eternamax Parte questa musica maestosa Super pomposa Che ti mette la carica E l'ululato che si sente È in realtà la chitarra elettrica Che lo emette Devastante È una delle mie preferite Ma è solo al quinto posto Vediamo al quarto chi c'è Al quarto posto troviamo Il tema del professor Platan Devo ammettere che Quando l'ascoltai per la prima volta Non mi entrò subito in testa Ma con vari ascolti Mi ha scavato un buco Nel cervello E si è piantata lì Ha messo radici E non si stacca più È fantastica È perfetta per l'atmosfera Nella città nella quale siamo È perfetta per un professore Pokémon È perfetta la fisarmonica È una cosa che non si sente spesso Nei giochi Pokémon È perfetta sotto qualsiasi punto di vista Tutto Ha tutto questa canzone La bellezza proprio Ma non è sul podio Perché sul podio Ci sono tre canzoni Che sono ancora più belle Secondo il mio punto di vista Al terzo posto troviamo Il preludio alla lotta Contro la campionessa Camilla Secondo me il preludio alla lotta È ancora più bello del tema della lotta stessa È semplicemente un piano Non c'è nessun altro strumento E basta quello A farti capire Che sei arrivato davanti All'ultimo ostacolo Che ti separa dalla vittoria E poi parte la lotta E piangi lacrime amare E poi quando arrivi a Spiraria E senti il piano Piangi tutte quante le lacrime amare Che hai pianto in Diamante e Perla Troviamo in seconda posizione La quinta gen con Ponte Villaggio Questa è davvero fenomenale Perché devi crearla tu la musica Tu entri e hai semplicemente la base E mano a mano che parli con alcuni NPC specifici Vengono aggiunti sempre più suoni Fino anche al vocale È devastante a livello mentale Ed è davvero una perla Davvero in questo gioco si sono impegnati Come non ho mai visto impegnarsi Gli artisti musicali per Pokémon Inoltre un fun fact Un fatto interessante È che le parole che si sentono pronunciare Il vocale che si sente pronunciare Nella musica di Ponte Villaggio Una volta che hai parlato con l'NPC appropriato Sono parole vere Non sono dette a caso E parlano di un uomo anziano Che guarda i gabbiani Figo E ora al primo posto Troviamo La terza generazione Non a caso la terza generazione Era la gen che avevo messo Nella tier più alta Per quanto riguarda tier maker E la host Più bella Per me Di tutti I giochi Pokémon È Questa Credo che rappresenti meglio La fine del lungo viaggio Che hai realizzato E tutti i compagni Che ti sei fatto Durante il viaggio Tutto ciò che hai dovuto subire Tutto il sudore versato Tutto il sudore versato Ripagati Con la vittoria Alla lega Pokémon E non c'è Melodia Più bella Che questa Siamo arrivati Siamo arrivati quindi Alla fine In descrizione Trovate ovviamente Tutte quante le host Che ho usato Alcune sono Riarrangiate Altre Riorchestrate Ma ho cercato Di trovare E di inserire Quelle più fedeli Possibili E non Quelle proprio Che si sente Che sono state Rimaneggiate In maniera Pesante E ho cercato Di scegliere Quelle non troppo Elaborate Per evitare Di snaturare La host stessa Ad ogni modo Vi ringrazio Per aver seguito Il video In descrizione Oltre alle musiche usate Trovate anche I link Che portano Instagram e Telegram Se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E mi fate Un grandissimo piacere E noi Ci vediamo ovviamente In un prossimo video Bye bye Ciao